Era irreperibile dal 5 giugno scorso, scomparso nel nulla dopo aver scritto uno scottante memoriale con il quale aveva ritrattato tutte le sue precedenti dichiarazioni rese ai giudici. Dopo cinque mesi di latitanza, Nino lo giudice, l'ex collaboratore, prima ospitato in una località protetta dalla procura e poi sfuggito misteriosamente, è ritornato nelle mani della giustizia. Ad acchiappare il nano, questo il soprannome col quale era conosciuto negli ambienti malabitosi, sono stati la squadra mobile di Reggio Calabria e lo SCO di Roma, diretto da Andrea Grassi, che hanno progressivamente stretto il cerchio attorno al latitante. Il nano si nascondeva proprio nella sua città, in un appartamento a Reggio, in località Vito. Da almeno due settimane gli agenti, seguendo alcune persone vicine allo giudice, avevano individuato il covo. Questa mattina all'alba è scattato il blitz. Gli investigatori hanno fatto irruzione nell'appartamento alle 5.30, sorprendendo lo giudice e la moglie nel sonno. Durante l'operazione, gli uomini dello SCO sono riusciti a sequestrare anche moltissimi documenti, sia cartacei che informatici. Ora si cercherà di ricostruire cosa ci sia dietro la misteriosa decisione di Nino lo giudice di dileguarsi e ritrattare quanto aveva precedentemente dichiarato. Come susseneva in questo video messaggio, balzato su tutti i siti internet poco prima di sparire. Oggi pomeriggio sono stato invitato, senza preavviso, dal dottore Donatio all'ufficio della DNA di Roma, di cui sono stato oggetto di pressione, di pressione psicologica. Il suo allontanamento non aveva fermato intanto il processo in corso contro di lui per gli attentati contro la procura regina. Anche in appello la condanna è stata confermata e il nano dovrà scontare nove anni. Attorno a lui continuano comunque a ruotare molti dei misteri della città dello stretto, dalla cattura del super boss Condello alla guerra tra i clan.